Ciao, allora come sta andando con la sfida? Ho visto che c'è un po' di riluttanza a pubblicare il primo video e allora sai cosa ho deciso di fare? Lo pubblico io il primo video. Facciamo così, ho deciso che invece di partire da 60 bpm a crescere come c'è scritto nel pdf che ti ho appena dato, partirò da 40 e farò due giri, ok? Vediamo a che velocità mi fermerò. Partendo da 40, l'incremento è un bpm ogni 3 secondi, ok? Parto da 40. Andiamo. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 3, Quarta, due, tre, i, enda, sotto, doppi, un, i, enda, due, i, enda, enda, quattri, enda, seconda, enda, siamo già a 51, enda, quattri, enda, terza, enda, due, enda, quattri, enda, quarta, paradidol, tre, quattro, paradidol, pa, di, enda, seconda, enda, tre, i, enda, quattri, enda, terza, enda, due, i, enda, tre, i, enda, quattri, enda, quarta, due, i, enda, sotto, enda, quattri, enda, un, i, enda, due, i, enda, tre, i, enda, quattri, enda, un, i, enda, tre, i, enda, quattri, enda, terza, enda, due, i, enda, tre, i, enda, quarta, enda, due, i, enda, sotto, enda, quattri, enda, para, 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 para. Attenzione al trick qua, triplo, doppio, triplo, sotto, triplo, terza, tre più cinque, terza, finger, attenzione qua, attenzione qua, attenzione qua, a capo, siamo a 84, 3, 3, 4, 4, 2, 3, doppio, 1, 2, 3, 4, paradidolo, 2, 3, 4, sotto, terza, quarta, sotto, attenzione, triplo, attenzione, triplo, terza, quarta, tre più cinque, finger, finger, stop, 110, mi sono fermato a 110, ora tocca a te superarmi, dai ho fatto due giri, basta che ne fai solo uno in più, terzo giro, e mi avrai già stracciato letteralmente, ok? Ti aspetto qui sotto, mi raccomando, fai un video anche tu, con lo stesso sistema, un incremento di BPM ogni 3 secondi con quest'app che si chiama Tempolite, fai il video, pubblicalo sul tuo canale YouTube e poi linkalo nei commenti qui sotto e cominciamo, diamoci da fare, ciao! Ciao!